Il primo test con l'autogp, come sono le prime impressioni? Le prime impressioni sono molto buone perché la macchina è molto veloce, tiene molta potenza, è una frenata incredibile, allora si deve abituarsi, ma mi sono sentito bene al primo giro e ho potuto migliorare poco a poco. Il programma che abbiamo creato è un Sinti Internet che dà la possibilità delle persone private di comprare parte sulla mia carriera, neanche se per comprare solo 50 euro o 5.000 euro, poco importa, le persone private possono comprare queste parte e hanno il diritto su 50% dei soldi che guadagno, che questa cosa può essere molto interessante per questo campionato perché i piloti guadagnano molti soldi in questo campionato e per i miei investori sarebbe una buona possibilità. Il sito si chiama www.myracedriver.com e dà la possibilità delle persone private di partecipare a un'avventura nel sport automobile, neanche se non sono piloti.